E' stata più che buona la risposta dei Vibonesi alla prima fiera della microeditoria organizzata dal Comitato Editori del Vibonese e dal Comune di Vibo Valenza sul lungovare Cristoforo Colombo di Vimmo Marina, per promuovere la lettura in tutte le sue forme e in ogni luogo, proprio come prevede il progetto che ha permesso alla città di ottenere l'importante riconoscimento di capitale italiana del libro del 2021. Sette le case editrici che hanno partecipato, tutte rigorosamente a chilometri zero, cioè che promuovono la cultura locale e soprattutto creano lavoro indotto in provincia. Da Libritaria con le sue decine di titoli ogni mese, all'edizione di Mario Vallone e poi anche la giovanissima Blitos o Laberoe, per passare ad Accademia Scrap Magazine, SD, collezioni editoriali, senza dimenticare il cristallo edizioni. Insomma, veramente un mare di libri con la microeditoria in fiera, per far conoscere il vibonese anche nel resto d'Italia.